Benvenuti alla finale del Caputo Bread Project 2023. Il pane è diventato quasi un piatto da mettere sulla tavola. Il chef oggi rappresenta in un modo straordinario. Addirittura può essere accompagnato, portato alla tavola con grande maestria e con grande importanza. Il pane è civiltà, il pane è uno degli alimenti più antichi del nostro Mediterraneo. Il pane è storia, il pane è praticamente tutto. Oggi questi ragazzi straordinari che vedono e pensano in maniera diversa riusciranno a portare dei piatti straordinari. Aspettiamo soprattutto grande semplicità e grande nettezza nei sapori e grande identità nella conoscibilità di quello piatto che noi mangiamo. Dove c'è il pane a tavola c'è l'Italia. Il terzo classificato è Alessandro Russo Sanseverino Barbotel. Il terzo classificato è Irene Tolomei a Roma Nesto Roma. Il pane è affogato. E il terzo classificato è Alessandro Russo Sanseverino. Il terzo classificato è Alessandro Russo Sanseverino. Il terzo classificato è Alessandro Russo Sanseverino.